Hamilton indubbiamente ha fatto un passo avanti e ha ascoltato in larga parte gli appassionati che in realtà non hanno mai fatto delle richieste specifiche all'azienda ma in ogni caso ha deciso di accontentare la sempre crescente domanda soprattutto riguardo alla qualità degli orologi perché questo Kaki Field Expedition indubbiamente racchiude tutto quello che può piacere a un appassionato a un prezzo in realtà molto piccolo ve ne parlo in questo nuovo video sempre qui nella nostra stanza degli orologi ma tra pochi secondi dopo la sigla iniziamo il simpaticissimo Stefano, patron della gioielleria Rosaspina di Bergamo come ogni mese e come avete visto anche in qualche precedente video ci ha inviato alcuni orologi lo ringrazio per questo perché ogni volta ci manda degli orologi da provare e da farvi vedere non li recensisco tutti in realtà l'ho detto anche in un precedente video perché non tutto poi alla fine mi colpisce o ritengo meritevole di attenzione anche se da appassionato non posso non apprezzare quasi quasi tutto nel nostro caso specifico in questo nuovo video parliamo di Hamilton e parliamo di Khaki Field Expedition che è una delle novità di Hamilton ne ha parlato tutto il mondo ne stanno parlando tanti youtuber e credo anche di capire facilmente il perché è un orologio molto molto bello ma soprattutto è un orologio completo a un prezzo piccolo e adesso vi parlo del prezzo e vi spiego perché questo orologio per me è un orologio completo iniziamo col dire innanzitutto che costa poco più di 1000 euro è un orologio indubbiamente dalle linee sportive e che piacciono sempre agli appassionati e il suo prezzo naturalmente anche condizionato da eventuali sconti che per esempio da rosa spina sono sempre molto consistenti soprattutto per gli amici di TOC quindi se siete curiosi è sufficiente contattare Stefano, Rosa Spina anche attraverso il loro sito che trovate nella descrizione di questo video ma come vi dicevo e come potete vedere voi stessi dalle nostre immagini si tratta di orologi molto belli ma anche completi perché completi? innanzitutto perché è possibile scegliere tra diametri da 41 mm e diametri da 37 mm non soltanto perché la differenza di diametro che praticamente serve semplicemente a scegliere in base al proprio polso in queste immagini abbiamo quelli da 41 mm ma di sicuro quelli da 37 mm meritano attenzione e probabilmente ne parleremo in un prossimo video dicevo questa differenza di diametro non va a condizionare quello che in realtà è tutto l'orologio dal suo spessore che è di poco più di 11 mm quindi un orologio molto sottile al suo contenuto perché ha un calibro al suo interno Hamilton H10 che è uno stretto derivato del Powermatic 80 di Tissot in ogni caso del gruppo Swatch e che è su base ETA 28-24 quindi una base solida un calibro Swiss Made così come è Swiss Made Hamilton è un calibro assolutamente affidabile Hamilton infatti da sempre è lo Swiss Made entry level per eccellenza forse è il primo marchio che un po' tutti abbiamo sempre consigliato a chi volesse approcciare il mondo del collezionismo con una poca spesa anche se in realtà poi nel corso del tempo come sicuramente saprete un po' tutti consigliamo sempre anche tante altre marche soprattutto nipponiche da Seiko a Citizen proprio perché rappresentano degli ottimi entry level degli ottimi prodotti a poco prezzo per chi però vuole iniziare a collezionare orologi meccanici ma soprattutto orologi affidabili e anche con storia e blasone beh Hamilton non fa eccezione da sempre Hamilton è la Maison Svizzera più consigliata e più richiesta dagli appassionati e da chi approccia a questo mondo e credo proprio che con il Kaki Field Expedition Hamilton abbia fatto un importante passo in avanti il primo step che fa Hamilton indubbiamente è quello di presentare un ottimo prodotto a un prezzo piccolo come abbiamo visto con degli ottimi contenuti tecnici il secondo passo in avanti però è quello di non essersi discostata troppo da quello che è il listino di tanti altri prodotti che ritengo però di un gradino qualitativo inferiore rispetto a questi Expedition pur presentando però un orologio questo Kaki Field molto molto ricercato nel suo design ma anche nelle lavorazioni tant'è che al di là della bellezza del design che poi può piacere o meno questi sono gusti soggettivi una nota positiva è quella della qualità costruttiva dell'orologio a partire dalla sua ghiera in acciaio su cui sono incisi i punti cardinali fino ad arrivare per esempio al quadrante che per quanto possa sembrare semplice si tratta pur sempre di un orologio Field quindi un orologio di stampo militare in realtà è anche un quadrante ottimamente realizzato privo di difetti e privo di sbavature cosa che in realtà potrebbe accadere nell'orologeria entry level beh Hamilton ha deciso di fare un passo in avanti e in più ha presentato come dicevamo una linea che può mettere tutti d'accordo due diametri da 37 e da 41 mm a perla appunto uno spessore molto ridotto passo del cinturino per entrambi i diametri da 20 mm così da potersi sbizzarrire con i cinturini cosa non semplice perché normalmente sui diametri da 37 mm è facile trovare in realtà dei passi da 18 o da 19 mm e quando sono da 19 mm c'è veramente da impazzire però Hamilton no Hamilton pare aver davvero ascoltato quelle che sono le attuali e più moderne esigenze degli appassionati appassionati di orologeria che sono cresciuti in maniera esponenziale durante questi anni e durante gli ultimi mesi nonostante la crisi dei listini che in realtà hanno continuato ad aumentare a causa della crescente inflazione per tutto quello che è di brutto purtroppo è capitato in questi anni e nonostante questo al netto di come dicevo sconti da parte delle gioiellerie e soprattutto da parte di Rosa Spina beh il listino di questo orologio rimane un listino per me ancora contenuto e che riesce di sicuro a giustificare i contenuti di questo orologio anche perché come avete visto dalle immagini è anche possibile sceglierlo con un cinturino in acciaio che appunto va a completare in maniera totale un orologio di per sé già bello e se qualcuno ha da lamentarsi su un prezzo di poco più di 1000 euro per un Hamilton con un H10 all'interno alla luce di quelli che sono i prezzi attuali dei microbrand beh vi giuro che inizio a bannare scherzi a parte Hamilton ha tirato fuori un orologio che reputo veramente centrato un orologio sportivo dal design giusto di stampo militare ma che in ogni caso si fa apprezzare sotto vari aspetti e sicuramente in diverse circostanze due diametri indubbiamente giusti anche perché forse non ve l'ho detto ma quello da 41 mm pur essendo abbondante come comunque deve essere un khaki field beh ha un lag to lag da 47 mm con un sub di Rolex per intenderci e tutti questi sono i motivi per cui ve ne volevo parlare per cui ho chiesto a Stefano di Rossaspina di inviarmeli qui nella nostra stanza degli orologi cosa che è accaduta e per questo lo ringrazio e di tutte queste cose vorrei discuterne assieme a voi nei commenti come sempre per capire un po' se avete anche voi notato questo nuovo approccio all'orologeria per appassionati da parte di Hamilton il tutto naturalmente non prima di avervi ringraziati per essere arrivati fin qui e darvi appuntamento nella nostra stanza degli orologi per una prossima puntata da qui su TOC ciao 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 ciao